Papilloma virus. Si stima che circa il 75% delle persone vi entri in contatto almeno una volta nella vita. In Italia registra 3.500 nuovi casi l'anno. Ecco perché l'azienda ASL2 di Lucca, nell'ambito della settimana europea del papilloma virus, partecipa attivamente alla campagna informativa, promossa dalla Regione Toscana per la promozione della vaccinazione. Si trasmette per contatto diretto durante i rapporti sessuali o indiretto con superfici, indumenti, biancheria contaminata. Generalmente l'infezione passa inosservata e il contagio è molto spesso inconsapevole. A lungo termine però le conseguenze possono essere gravi, soprattutto per le donne che sono predisposte a sviluppare diverse forme di tumore nella Regione Genitale, in particolare al collo dell'utero, tumore riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come totalmente riconducibile all'infezione da HPV. L'ASL2 tiene quindi a mettere in guardia da questo virus consigliando la vaccinazione, che rappresenta un'arma efficace di prevenzione ed è rivolta a tutte le ragazze a partire dagli 11 anni, fino ai 18 non compiuti viene offerta gratuitamente ed è molto più efficace se effettuata prima dell'inizio dell'attività sessuale. Il vaccino protegge dalle lesioni causate dai ceppi virali 16 e 18, responsabili di circa il 70% dei tumori invasivi del collo dell'utero e si integra con i programmi di diagnosi precoce. Non va a sostituire dunque il pap test, che va fatto a partire dai 25 anni. La novità, emersa nel corso della settimana europea, riguarda la possibilità di estendere il vaccino anche ai maschi. Sono previste tre iniezioni intramuscolari nel braccio, somministrate nell'arco di sei mesi. Per quest'anno la vaccinazione è su chiamata attiva, cioè su invito diretto da parte dell'azienda tramite telefonata o lettera, per le ragazze nate negli anni 2002 e precedenti.